Un imprenditore coinvolto in varie attività, ma da alcuni anni ne ha aggiunta una illegale che gli è costata le manette, ovvero un enorme giro di prestiti di denaro ai quali applicava tassi da usuraio. Così un 39enne pesarese è finito agli arresti domiciliari al termine di un'indagine coordinata fra Guardia di Finanza e Squadra Mobile di Pesaro. Indagine complessa che tra origine da una perquisizione svolta lo scorso luglio, nel corso della quale era stata sequestrata una numerosa documentazione bancaria e finanziaria. Analizzati centinaia di faldoni e appunti manoscritti che hanno consentito di ricostruire un volume di denaro movimentato dall'imprenditore mettendo in luce 300 operazioni di prestito svolte nei confronti di 280 soggetti per un importo complessivo di 800.000 euro con compensi pattuiti di tipo usuraio richiesti ad altri tre soggetti. In particolare l'uomo utilizzava una modulistica prestampata e dedicata all'abusiva attività finanziaria che di fatto consentiva di censire ogni prestito concesso attraverso la creazione di fascicoli numerati tipo scheda cliente all'interno dei quali sono stati rinvenuti anche titoli di credito come cambiali o assegni trattenuti a titolo di garanzia sui prestiti concessi. Inoltre sono state rinvenute delle stampe denominate piani di rientro che esplicitavano le modalità di pagamento delle rate con date importi e capitale residuo. Un'analisi dei documenti che è stata corroborata anche dalle dichiarazioni di alcuni clienti identificati che hanno confermato l'abusiva attività finanziaria e la condotta usuraria dell'indagato che risulta aver applicato interessi fino al 105%. È emerso pure che l'arrestato esercitava una vera e propria offerta di prestiti in denaro di sua iniziativa ai soggetti in stato di bisogno e necessità. Nell'inchiesta è finito pure un secondo indagato che si è occupato della riscossione a domicilio delle rate dei prestiti. L'illecita attività svolta dall'uomo è stata resa possibile dall'ingente e immediata disponibilità di denaro contante dimostrata dall'indagato in relazione alla quale sono in corso specifici approfondimenti. Insieme all'arresto sono state effettuate varie perquisizioni che hanno consentito di sequestrare ulteriore materiale probatorio utile per proseguire le indagini e 1.100 euro potenziale profitto di reati contestati.